Carismatico, gioviale, diplomatico e vincente. Nell'ambiente Granata è conosciuto come Spider Nordi. Oggi portiere del Catanzaro, Emanuele Nordi ha difeso la Porta Granata nella stagione 2012-2013, anno della promozione in Serie B e in quella successiva. Un portiere che è rimasto nei cuori dei tifosi Granata, che ancora oggi lo ricordano con affetto. Che match ti aspetti sul campo, visto che entrambi le squadre arrivano a questo appuntamento non in un grande momento di forma. Ma è stata una partita difficile su un campo ostico, contro una squadra come il Trapani che sicuramente vorrà recitare un campionato da protagonista e magari sono messi anche la possibilità di giocarsi da fine in fondo per vincerlo. Quindi per noi sarà una partita proibitiva e quindi in aspetto è una partita difficile però noi giustamente dobbiamo cercare di fare punti perché veniamo da due sconfitte e abbiamo voglia di riscatto. Sicuramente per me è una partita particolare, per non dire un punto speciale perché tornare a giocare contro il Trapani dopo quello che comunque ho vissuto in quella squadra, in quella città, insomma, è sicuramente emozionante per me e sono curioso anch'io comunque di capire quali emozioni vivrò. Emanuele, qui i tifosi ti ricordano come Spider Nordi ed hanno fatto il tuo nome ogni qualvolta che il Trapani si è trovato alla ricerca di un portiere. Vuoi mandare un messaggio ai tuoi ex tifosi? Avrei voluto sicuramente rimanere a Trapani e non pensavo che potessi finire così però fa parte del nostro lavoro e niente, quindi ci va avanti. Comunque non nascondo che mi sarebbe piaciuto tornare e chissà magari un giorno, non so se questo succederà. Il fatto che i tifosi abbiano stima di mezzo, ma questo mi rende orgoglioso e mi fa felice, quindi anch'io ho un grande ricordo della tiposeria e penso che Trapani sia veramente una piazza speciale che è difficile da trovare in Italia perché c'è un rapporto squadra-tiposeria che ti ha da trovare in altri posti. Quindi accoglienza non mi aspetto niente, nel senso che quello che accadrà sarà tutto da vivere, sia per me che anche per i miei familiari che sono legati anche loro a Trapani. Quindi cercherò di vivermela a quello che viene nel miglior modo possibile. Gli mando ovviamente un saluto, un grosso abbraccio e un bocca al lupo per la stagione. Grazie. 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 Grazie.